Da quando abbiamo ricominciato a registrare i Mental Breakdown da settembre, la peculiarità di questa rubrica, oltre al tasso di stupidaggini che vengono dette, c'è anche le coppie inedite o comunque le squadre inedite. Io ho registrato con Andrea per esempio quando non era mai successa e oggi ci troviamo invece con Jack. Ciao a tutti, sono tornato, che è lievemente infreddolito e il maestro. Ciao a tutti ragazzi. Quindi ci siamo rimischiati, io sono tornato giù per una settimana per concludere un progetto in cui poi vi parlerà meglio il maestro, o preferisci che svisceri io la questione? No, ne puoi parlare anche te. E quindi abbiamo deciso di, siccome non siamo riusciti a registrare in tempo per lunedì, facciamo uscire questa puntata di mercoledì e comunque, che caro, è niente fondamentalmente. Un inedito gratifo, è mezza settimana. È solo una sovrastruttura la puntata che esce lunedì. È una sovrastruttura, aspetta di più di più però. Quella di Marx. Ah, ok, 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 ok. Confermi maestro? Mi piacerebbe tanto confermarlo però... Vabbè, famo che... sovrastruttura, sì. È un cliché, capisco di più. È un cliché nel senso, la puntata fondamentalmente può uscire anche di venerdì. L'importante è che ve l'ascoltiate perché se no è come se non uscissero in poche parole. Quindi, dicevamo, sono tornato giù e anche Andre è tornato poi da buona stacanovista, qual è esattamente, allo scoccare della fine del lavoro. È tornato con un 3 alle 5 di mattina in quella che si chiama la City, che potrebbe anche essere Gotham City o Kansas City, una serie di cose. perché però in realtà è Milano e noi ci troviamo noi tre in questa freddissima stanza a registrare... Una temperatura proprio, vabbè, rigida. La puntata... poi tu sei in camicia, chissà come fai. Eh, ma sai, non cambia tanto, lo soffro comunque. Ah, tu soffri comunque il freddo? Sì, 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 mi piace ma lo soffro. Sei un gattino freddoloso? Sì, 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 esatto. Micio, 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 micio. Ah, racconta un po' di questo progetto appena, appena concluso o che inizierà in realtà il 24 ottobre, che era l'inaugurazione della mostra fotografica di Gregory Baffoni, che noi abbiamo intervistato. Esatto, noi abbiamo conosciuto Gregory quando abbiamo fatto l'intervista in un evento con Industria 8. Che sarà anche protagonista di un po' evento. Perché infatti dentro c'è Corridoio 8, c'è Industria e c'è il lavoro chiaramente di Gregory, che appunto, per chi non lo sapesse, è un fotografo. Dovremmo forse chiamarci Mike Caroline 8? Zio no, dai. Forse non si capisce quello che ho detto, lo scriviamo più piano. Dovremmo forse chiamarci Mike Caroline 8? Viste le nostre collaborazioni con Corridoio 8, Industria 8? Direi di no, direi di no. Diciamo che il lotto è ricorrente, ma potrebbe avere molti significati diversi. Comunque, nulla, abbiamo fatto questa fantastica, come la chiamiamo, guerriglia urbana. Guerriglia urbana. A generale, studenti d'economia, può spiegare meglio quello che abbiamo fatto effettivamente. Sì, c'è una teoria. Grazie ai miei studi e alla mia laurea conseguita, posso dirvi che c'è una grossa differenza tra guerriglia urbana e guerriglia marketing, che sono due cose un po' diverse. Il rio urbana è come una cosa più da protesta sociale. Sì, esatto, appunto. Ero ironico il fatto che serve una laurea per dirlo. Ok. Però a quanto pare serve un'altra laurea per spiegarlo. Io non ho, infatti. Scherzo, scherzo. No, e rientro ovviamente all'interno di un piano di guerriglia marketing, che è la nuova frontiera del futuro del marketing e della comunicazione in generale. che si basa essenzialmente su costi piuttosto bassi e modalità alternative completamente nuove. Che ci caratterizzano i costi piuttosto bassi. Ci abbiamo una lira manco. E niente, nella fattispecie ci siamo occupati, si sono occupati, perché io quella mattina non c'ero. Stavo facendo altro, però c'ero il giorno dopo. Producevi che comunque è nobile, lavoravi. Sì, sì, a Onori piace questo elemento. E niente, stavo lavorando, però insomma loro si sono occupati dell'affissione di manifesti di foto scattate da Gregory, che poi non è nient'altro che un'anticipazione minuscola di quello che sarà possibile assistere, visitare, visionare anzi, alla mostra. E l'opera però non è finita lì, perché poi si è caratterizzata per la scrittura di frasi, parole. Che rientrano nel concept della mostra, tutto quanto nel progetto. Il progetto, vuoi raccontare teatralmente, come se tu sai fare qualche nello? Teatralmente, drammaticamente più che altro. Drammaticamente della notte, dell'affissione o del giorno dell'affissione. Nel senso, partendo dalla temperatura, scusa. C'è da dire che questa è la seconda volta che operiamo in questa maniera, quindi con l'affissione un po' come dire, clandestina. Ecco, mettiamola così. Sì, sì, me ne assumo la responsabilità, non c'è problema. Sei anche il nostro avvocato, quindi se lo dici tu, puoi dirlo comunque. Esattamente, non c'è problema. La prima volta è andata malissimo. Ecco, vorrei richiamare la memoria il fatto che ci siamo ritrovati in piazza. E forse non l'abbiamo raccontato mai, o sì, mica mi ricordo. Sì, 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 no, perché la prima affissione... No, infatti non penso l'abbiamo mai raccontato. Però pioveva dirotto. Allora, noi abbiamo fatto, cioè la squadra che era composta all'epoca da otto componenti, si è sperata alle quattro per ritrovarsi alle 4.30 e accorgersi che il meteo, inaspettatamente, perché in realtà dava sereno. Diciamo che avevamo meteo con pareri diversi. Esatto, poi alcuni criticavano altri, eh, ragazzi, non avete consultato il meteo, no, guarda che è il meteo.it, no, perché è l'aeronautica e tutte queste cose. Fatto sta che noi ci siamo trovati alle 4.30 davanti al distributore del latte. Tristissimo. Tristissimo. Eravamo solo noi e pioveva dirotto. Abbiamo atteso quante, due ore? Sì, sì, due ore in silenzio, in piedi, davanti al distributore del latte. Esatto. Non male. Mentre questa volta come è andata, maestro? È andata un po' meglio, nel senso che non pioveva. Quando si dice no, potrebbe piovere. Come peggiorativo, non pioveva, ma era freddissimo. Proprio freddo, freddo. E a me nel frattempo è morto anche il telefono. Primo manifesto messo... No, esatto, non morto per questo racconto. No, no, nel senso, primo manifesto messo, prendo il barile di colla super, per evitare che il telefono cadesse nel barile di colla, gli ho dato un pugno, cioè nel senso l'ho proprio spizzato a distanza chilometrica, nel senso che ogni velleità sportiva pensavo fosse morta in me, invece c'è avuto questo raptus. Purtroppo il podcast non ci dà la possibilità di condividere continui video, quindi non io non posso farvi l'imitazione del maestro, tuttavia è successo questo. Come ha detto il maestro, gli è cascato da questo telefono, la prima reazione è stata una sottospecie di mugugno o tipo di piagnetto da cagnolino con un aggiungimento del tipo no, si è rotto! Allora tutti gli siamo detti, come si è rotto? ma si accende, Andre che comunque è sempre in ogni momento della sua vita il tecnico l'ha preso in mano per diciamo dargli una pacca di consolazione no Ricca, il backup l'hai fatto e il maestro è un po' così toccato no, la cover l'hai comprata? no, il suo telefono è da buttare cioè è proprio detto così ma non è che c'è... no, è da buttare e qui Andre con la sua freddezza ha archiviato la situazione il maestro ha iniziato a fare una serie di facce che poi ho riproposto l'altra sera con la bocca, non so se mordeva la lingua ho dato sfogo a tutta si irrigidiva tutto per forse, non lo so, sdrammatizzare contenere, mettiamola così, contenere il mostro che stava nascendo in me e sì sì, ho dato sfogo a tutta la mimica facciale ho anche, cioè, ho scoperto un po' turettico, si capito? sì sì, ho scoperto dei muscoli facciali che non pensavo avessi, insomma, quindi molto triste abbiamo rianimato l'abbiamo rianimato pagando profumatamente però diciamo che il problema è stato risolto poco dopo profumatamente è l'aver più utilizzato dal MES per tutte le spese che superano i 20 euro profumatamente è il rapporto qualità-prezzo che stabilisce il profumatamente eh, quando andiamo al ristorante già il pub è poco profumato poi il ristorante è stato profumato insomma, comunque però il resto è andato molto molto bene sì, abbiamo attuato le opzizioni sì, è una roba proprio stremante come cosa però anche perché è tutto bello con la tensione altissima perché tutti nascosti tutti infatti forse è poco carino da dirlo però è la prima cosa che ho detto appena seduto in macchina alle 4 e 3 quarti è stata che la prossima volta che faremo una cosa del genere forse la taglieremo ma perché dovremmo tagliarla è che la prossima volta o sarà per un'idea miliardaria o perché ci danno i miliardi fondamentalmente mettiamola così sono anni di vita persi in una forza lavoro sovraumana eh, esatto però alla fine è andato tutto bene e ringraziamo pubblicamente in questa puntata il buon aminicotoso su Instagram Nicolotto Sony che senza il quale anche se il quale si usa per le cose quindi non è stata una cosa però senza di lui non saremmo riusciti in nessun modo a completare l'operazione in una mattinata in poco più insomma quindi grazie Nico e ti arriverà presto un gift dall'azienda una mystery box una mystery box esatto dall'headquarter milanese insomma che abbiamo in scaletta maestro sui scelriamo un po' di tematiche dall'altro giorno dal dubbio interesse ma che cercheremo di rendere interessante dal dubbissimo dal dubbissimo interesse pressoché nullo ma comunque l'altra sera ti ho scritto mi hai detto sei andato a vedere Venom quindi mi è rivenuto in mente tutta la dimensione del cinema e del teatro no questo l'ho già detto quindi non lo ripeto però anche i cinema a capienza ridotta a capienza ridotta che sono tornati a capienza massima e quindi finalmente il rituale del cinema che già è mezzo morto per via di Netflix e compagnia cantante e quindi una cosa Netflix è un po' la lezione online per l'università perché devo alzarmi dal letto e posso fare lezioni a casa ma che poi sta roba di metti il cinema con la capienza massima non c'è senso tanto so puoi dire lo stesso esatto mi sono andato al cinema di Waltz c'ero solo io quando eri andato a vedere Al Boy come? no quando eri andato a vedere Al Boy da solo no era Al Boy? no non era Al Boy non so è un film Al Boy si come no? che avevi incontrato Fit che hai detto che cazzo vai al cinema da solo eri andato a vedere Al Boy è vero cazzo ok allora mi ricordo bene mi ricordo bene salutiamo anche Fit allora sono andato anch'io a vedere Venom dopo ah io devo dire una cosa apro una parentesi brevissima ho una cultura cinematografica che è come quella di mia nipote che ha 4 anni quindi vedo cartoni o cartoni da adulti tra virgolette tipo la film della Marvel ovvero i film con i supereroi ovvero o con i mostri perché io e Jackie siamo scoperti essere entrambi i fan di Godzilla che figata di tutto il MonsterVerse quindi ho una cultura cinematografica veramente penosa però mi diverte andare a vedere questi film e penso di aver speso solo soldi per vedere film di merda fondamentalmente il primo film post pandemia che ho visto è stato Shang Chi o Shang Li un film della Marvel che è quello del signore il signore degli anali cinese il signore degli anali cinese che mi ha caricato non lo so già solo per il titolo a me mi ha dato fastidio no a me mi ha dato fastidio dover arrivare a no dove sta il Castellano o Campiglione Campiglione il Super 8 il Super 8 esattamente però vabbè il film è piaciuto Venom che è un altro film da categorizzare come film idiota non mi è piaciuto molto devo dire beh guarda allora io ho visto anche quello prima quindi non so manco chi è Venom però è un figo cazzo a me è piaciuto lui zio Venom è un cazzo per gli amanti del fumetto i radical capito i puristi tutti incazzati tutti i fini di rancore no ma perché voi rovinate con le vostre pellicole quello che è stato scritto fottuti americani rovinate tutto io che sono un fan dei film dei fumetti non sapendo so leggere ma leggo poco poco certo so leggere poco so leggere poco e non me ne frega fondamentalmente un cazzo il fumetto però va annoiato cioè un'ora e mezza nemmeno non so no dai annoiato non annoiato un film della Pixar dura di più penso no si è durato poco abbastanza cattivo Carnage si Carnage è tanto cattivo e gradisco anche le battute di Venom dai dai fanno ridere cioè io paradossalmente preferisco molto più Venom a Eddie Brock ovvero a Tom Hardy Eddie Brock è anche il surname di un nostro amico che salutiamo che è Edward ciao Tom Hardy no Tom Hardy a me mi piace a me è piaciuto un botto in Peaky Blinders mi piace un botto in Gangs of London che sta nella serie Sky in cui c'era se non sbaglio insomma doveva tendenzialmente mi piace quella mancia dei lettori che qualsiasi cosa facciano comunque mi carica no invece a me non mi ha fatto impazzire tipo Brad Pitt se Brad Pitt facesse la ballerina mi piace si ma Brad Pitt è Brad Pitt io comunque contento di vedere Brad Pitt che fa la ballerina io contento io contento di vedere Brad Pitt e quindi così te invece che hai visto recentemente tu come sempre vedi tu vai ad alzare facendoci risultare dei completi idioti no assolutamente è vero che ho visto il film che ha vinto Cannes quest'anno che si chiama Titanna però in realtà io non ho una grossa cultura cinematografica cioè vado moltissimo al cinema mi piace molto il rituale del cinema però sempre con occhi innocenti diciamo nel senso ti piace il momento del cinema? come? perché a me piace proprio andare al cinema ma non tanto in quanto a eh no no si 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 è quello una cosa che chiaramente adesso non vorrei fare un discorso quale un quisto però chiaramente si è perso un po' e quindi comunque è bello cioè la serata dedicata al cinema perché se no Netflix è a uso e consumo come insomma come il distributore automatico tra virgolette e invece il cinema è come se preparassi il pasto caldo per te e poi c'è quello perché ti sei messo nel posto che mi è successo l'altro giorno mi hanno fatto alzare per farmi usare i due posti ma mettiti tu i due posti più là cioè la sala è vuota eravamo in quattro eravamo in dieci mettiti là e mi sono alzato chissà se la ragazza che mi ha fatto alzare sentirà mai questa con tutti tipo c'era Reb e Mickey stai calmo se non ho sto calmo un cazzo per chiedermi Venom era già iniziato oltretutto e metti i piedi in testa a quello che sta davanti a te allungarti sia le buone maniere che le cattive maniere del cinema diciamo tutte le pratiche sessuali proibite che vengono compite al cinema esatto tutti quei rapporti orali consumati di che parli ma di che cosa parli scusa si dice che il maestro si porta delle vittime no quindi non so se maestro per tutti noi che abbiamo avuto i primi rapporti sessuali prima della presa prima della patente anche quello all'ultimo rapporto sessuale prima della presa della pastiglia tutti noi che abbiamo avuto una fidanzata prima di prendere la patente si andava al cinema a fare quello che si faceva le pratiche proibite tutto il Kamasutra vabbè al di là io ho preso la patente che già l'avvento di Netflix perversava quindi diciamo che questa fantastica che vuol dire pratica che tu dai scrivi in maniera così gioiosa si si non è una cosa che mi è mai appartenuta ecco però ecco tornando a alle pratiche proibite no perché ho visto la scuola cattolica che è il film sul mostro del Circeo sul mostro del Circeo ciò che diventa da lei maestro no sul mostro del Circeo tagli il microfono è la mala Circe il mostro del Circeo chiedo no non è la maga Circe però c'è Benedetta Porcaroli ciò non rende il film la scuola cattolica il film sulla maga Circe e com'è in abiti succinti non categorizzare la scuola cattolica come un film per andare a vedere se si vuole vedere abiti succinti no francamente no l'atmosfera è un po' diversa è anche il messaggio Giacomo se vuoi lo vediamo insieme possiamo fare un disclaimer possiamo fare un disclaimer certo no fallo dico fallo racconta il senso vero del film il film racconta quello che è stato è il motivo per cui ci dissociamo dalle parole di Jack assolutamente in toto è un film che racconta uno dei delitti e rapimenti che hanno fatto più scalpore diciamo nell'opinione pubblica negli ultimi negli ultimi veramente 50-60 anni sono quelli famosissimi no quelli che sono poi diventati uso una parola un po' strana cult cioè come il mostro di Firenze insomma come altre vicende particolarmente crudeli e particolarmente come dire violente per cui non è esattamente un film ludico ecco cioè voglio dire c'è un rapimento c'è un cessione e per osservare con una visione abbastanza così disinteressata alle nudità allora chiedo scusa soffeso benedetta porcarori no ok no vabbè chiudiamo chiudiamo la parentesi allora è un film interessante anche se il primo che ho visto post pandemia è stato qui rido io con Tony Servillo che è uno dei tre film che usciranno in sequenza insomma sulla vita di Edoardo Scarpetta che è molto molto carino e l'ultimo ah il il papà di il caparettista che ha dato i natali il caparettista non era un comico era un attore si diciamo il fautore quando mi riprende no 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 vabbè il teatro napoletano si offendono cioè se li chiami carabettisti vabbè non si può dire amici del sud insomma non era un caparettista vabbè era un comico che era un attore un attore un attore del teatro napoletano che si scontrava con D'Annunzio perché D'Annunzio lo volevo censurare si perché c'è stata una vicenda diciamo giudiziaria di plagio ah mi scuso con Scarpetta per averlo chiamato caparettista anche se non penso che si offenda che è morto un resumo ok d'accordo però sarebbe il papà illegittimo perché non è lo stesso padre in realtà però di Luca Ravenna di quello che fa adesso Luca Ravenna di Eduardo e Peppino De Filippo che non è caparettista Eduardo? Eduardo De Filippo e Peppino De Filippo che è il fratello siamo un po' dissagranti oggi sì sì forse un po' parecchio siamo partiti col mostro del circe adesso e chiudo con un film stranissimo che è quello che ha vinto a Cannes appunto che è Titan dove un film veramente Titan penso non saprei verificherò è un film veramente irraccontabile perché la trama è pressoché illegibile stranissima a me è disturbato anche se lo sentire parlare sì perché c'è questa questa ragazza insomma che ha chiaramente qualche problemino con la gestione della rabbia con la gestione della rabbia visto che c'è una forte furia omicida e in più diciamo che c'è una dimensione come dire relazionale tra lei e una macchina sostanzialmente sembra un po' cyberpunk è molto molto particolare sembra che ho raccontato il nulla perché effettivamente ho raccontato il nulla ma è un film che è il cosiddetto come si dice vedilo perché non so come raccontartelo però ecco vincitore a Cannes quest'anno quindi sono quelle cose che magari vanno viste quindi è una donna che fa sesso con la macchina esatto non esattamente non in macchina ma con la macchina Nanni Moretti l'ha descritto così però non esattamente c'è di più infatti è uno che rispettiamo in conseguenza non gli diamo lo rispettiamo Nanni Moretti lo rispettiamo solo che forse un po' rosicava visto che il suo film e c'è bombo per citare Ande forse rosicava un po' perché il suo film era il concorso a Cannes e ha perso con questo film appunto un po' spocchioso Nanni Moretti vero? a me non sta simpaticissimo non lo so io invece ho visto Venom ho visto Dune Zendaya ti amo com'è Dune? eh c'è Zendaya ma com'è come film? lei è bellissima ok il film come è che succede? non sbaglio ha anche gli occhi blu ok no niente il film certo non è il signore degli anelli per quanto riguarda la grande l'Olimpo di film fantasy ritorna un po' su quelle tratte? no c'è di simile il fatto di essere tratto da un romanzo che è un fantasy cioè dettagliato scritto nei minimi dettagli e viene raccontato tutto quanto benissimo quindi complimenti a Zendaya per questo lavoro ok grandissimo ciao tout a lei e poi ho visto 007 che finisce di merda si cioè lui muore è uno spoiler però lo possiamo dire secondo me eh si ma che cazzo se ne frega si anche perché Tony Craig come si chiama Tony Craig? guarda scusa posso dirti una cosa Tony Stark le uniche due persone che mi hanno spoilerato il finale sei tu in questo istante Sgarbi un po' di Facebook quindi vi associo che fuori vecchina muore ma è giusto che muore ah ti ha spoilerato il film? ah dispiace vuoi dire vabbè tanto fa schifo c'è un bassissima quantità di componente femminile una bassissima quantità di componente femminile che lo rendono un film di merda per te sto giudicando i film ma sono rimasto la componente femminile giuro che di solito non interpreto così i fenomeni della vita soltanto oggi comunque no scusate finisci no finisco finisco no ho finito in realtà cioè ho visto più film negli ultimi due mesi che in cinque anni tipo ho visto quattro volte al cinema non ci sono mai andato tutte queste volte no io ho visto solo film tutte le cose che per tanto tempo non possiamo più fare poi quando le possiamo rifare ne abusiamo tra l'altro ieri ho incontrato Niccolò Maravini che saluto ah salutiamo salutiamo a vedere Venom Venom questo pugno questa rissa tra un tale McGregor e un altrettanto tale per me sconosciuto Facchinetti che penso che sia ho scoperto il figlio dei dei Poo del tizio dei Poo allora ragazzi Roby Facchinetti c'è un meme che è girato nel nostro gruppo Instagram che mi ha fatto molto dire su questa vicenda ma scusate voi che siete forse più più informati rispetto a me ma quel tizio che si chiama McGregor è tipo un guerriero un guerriero armato di spada e scudo maestro no c'è la spada il suo braccio sinistro e lo scudo la sua tartaruga braccio destro semplicemente credo per la sua sta per la sua categoria è stato per molti anni il più forte rottatore al mondo e picchia picchia duro maestro è uno che picchia duro oltre a picchiare duro pippa anche duro credo perché se no non si spiega quello che è successo però dall'altra parte credo anche che sia difficile non picchia facchinetti cioè nel senso questo mea mi ha fatto morire che Conor McGregor sia un grande campione dimostrato dal fatto che ha lasciato parare facchinetti per due ore e mezza prima di picchiarlo invece di picchiarlo subito come avrebbe fatto con chiunque di noi pensiero strategico mi ha fatto morire beh diciamo che se io avessi la capacità di uccidere un uomo che ha McGregor e i soldi che ha McGregor avresti un sacco di amici in più perché nessuno ti romperebbe più coglioni esatto ma oltre a questo lei ha anche ucciso molte più persone quindi proprio lo streak tra l'altro tipo ha picchiato roba i facchinetti davanti agli occhi di Bella Thorne e del ragazzo Ben John Fede questo è un piccolo scoop perché io c'ero in realtà stavo a quella cena in quell'hotel stavo con i miei aveva fatto anche dei video ma la sicurezza di McGregor l'ha fatti cancellare per non sporcare l'immagine del lottatore esatto poi finché era la sicurezza avrei anche potuto gestirli un attimo sei impicciato che comunque non c'è la sua capacità di uccidere le persone ma hai comunque una capacità di uccidere le persone sì sì è chiaro però quando è arrivato Conor non come il maestro ovviamente lui il maestro McGregor ma comunque dici la tua esatto poi quando quando si è avvicinato il mio caro amico quando si è avvicinato il mio caro amico Conor metto guarda ce la cancello il video per favore come no vai tranquillo tranquillo a casa buonanotte ti ho fatto due bottiglie e via salutiamo dai salutiamo anche McGregor salutiamo Conor McGregor e salutiamo anche i nostri ascoltatori chissà che un giorno non sanno radio ascoltatori che ci creeremo la nostra piccola radio speriamo ultra sponsorizzata visto che abbiamo salutato tutti saluto anche Mario Giordano il mezzo soprano Mario Giordano perché tra poco è Halloween perché tra poco è Halloween e sono certo che ha molte sorprese in riserva ci sarà tanta zuppa di ceci probabilmente io chiudo qui perché adesso per me vorrei tornare a lavorare per voi di non fare nulla scherzo scherzo e no niente volevo dire volevo far notare alle persone quanto sia imbarazzante l'atteggiamento turbo capitalista dell'uber consumista degli americani che pur devende più zucche fanno cominciare un mese prima fanno cominciare Halloween un mese prima perché è un giorno Halloween non è il mese di Halloween americani sono tutti strani lo sai guarda McGregor ah McGregor è il randese però ormai mi racconto perché poi alcune cose che voi non vedete le vedo io e voi non sapete giustamente Jack sta parlando io mi sto cercando di prendere la parola Jack lo sta impedendo come si finirà la storia un attimo ok infatti tutto questo per vendere due zucche in più ora ho finito e anche dei forconi a strego da diavoletta beh perché diavoletta vabbè perché diavoletta vabbè no no volevo solo farti notare che anche a Natale si iniziano a fare a comprare regali un mese prima di Natale no 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 non c'è un risponso adesso per esempio Jack sta cercando di parlare di me sto glielo nega e io sono obbligato invece a dare il microfono a Jack però sì mi sembra abbastanza evidente che Natale è una festività oltre al fatto essere molto più importante è una festa pagana estinta 2000 anni fa riportata in audio da un popolo dei pastori beh anche noi festeggiamo ogni santi le fave dei morti noi siamo ogni santi santi che sto facendo chiaramente riferimento a un immaginario cristiano però Natale è tutto il mese di Dicembre con gli addobbi le cose le figlie c'è Halloween ma che c'è le figlie no no le filastrocche intenderlo le filastrocche Natale il calendario dell'avvento no vabbè ma che c'entra cioè la festività è sempre quella però si è uguale una parte nasce Cristo da una parte vedo delle donne che vanno in giro mezzanude con dei forconi a diavoletta non vorrei non vorrei deluderti ma anche uomini mezzanude la data è convenzionale anche quella è una festività pagana immaginario io sono totalmente innamorato dell'immaginario estetico di Jack comunque di tutto ciò che comunque compone il suo vedere basta chiudiamo qua diavoletta è il termine con cui vorrei chiudere questa puntata vuoi aggiungere altro? no no credo che possa bastare bene risentirete Jack a dicembre più o meno saluta ciao a tutti buon Natale buon Halloween ciao raga grazie mille ciao ciao raga ciao 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 ciao